Ciao, bentrovati carissimi amici e amiche, per questo momento così bello e importante di lettura del libro della Genesi Ascolto della Parola di Dio, tempo di meditazione e anche di approfondimento e di conoscenza. Cominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. Manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Lettura del Libro della Genesi capitolo 34 Leggeremo la storia di Dina, una storia di violenza e di vendetta. Dina, la figlia che lì aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto. Ma la notò Sichem, figlio di Camor, Leveo, principe di quel territorio. La rapì e si coricò con lei, facendole violenza. Ma poi egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe. Si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto. Quindi disse a Camor, suo padre, prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina. Ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. E Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati. Essi indignarono molto, perché quegli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Camor disse loro, Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia. Vi prego, dategliela in moglie. Anzi, imparentatevi con noi. Voi darete a noi le vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione. Potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà. Sichem disse al padre e ai fratelli di lei, possa io trovare grazia agli occhi vostri. Vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono. Vi darò quanto mi chiederete. Ma concedetemi la giovane in moglie. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, perché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro, non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione. Diventate come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso, noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. D'altra parte, era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio, Sichem, alla porta della loro città e parlarono agli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica con noi. Abitino pure con noi nel territorio e lo percorrano in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare loro le nostre. Ma questi uomini ha una condizione a consentiranno ad abitare con noi per diventare un unico popolo. Se noi circoncideremo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi. Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio Sichem. Tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si fecero circoncidere. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbi, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem. Portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a Simone e a Levi, «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai Cananei e ai Perizzeti. Io ho solo pochi uomini. Se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa». risposero Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta? Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Preghiamo insieme Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, non mi resta che ringraziarvi per questo tempo che insieme abbiamo dedicato alla lettura e all'ascolto del libro della Genesi, un capitolo anche con una storia drammatica, triste, fatta di violenza e di vendetta. e sì, queste sono le pagine dell'Antico Testamento, ma io credo che sia giusto e importante anche attraversare e conoscere questa parte della Bibbia che spesso è sconosciuta. ciao ciao e abbi cura di te.